Cosa è la statale? Cosa è la zona dove c'è il mobilificio Francesconi, quindi qui l'acqua sembra che non riesca a trovare dove defluire. A tre mesi dagli allagamenti che lo scorso 12 giugno colpirono la zona di Subbiano ed in particolar modo quella di Castelnuovo di Subbiano, si parla di rischio idrogeologico in un incontro promosso dai consiglieri di minoranza al comune di Subbiano, Vasco Bobini e David Faltoni. L'incontro è in programma alle 21.30 nella sala consigliare del comune per verificare cosa sia stato fatto dalla giunta e dall'assessore ai lavori pubblici per mettere in sicurezza queste zone ed evitare così che si possa ripetere questo tipo di eventi. Qualcosa non è stato fatto come doveva essere stato fatto negli anni passati perché questa urbanizzazione era mai vecchia, però anche se nel passato sono stati commessi degli errori, ora va trovata la soluzione perché non è che si può pensare che smetta di piovere o sperare che smetta di piovere per non avere il problema. Il problema esiste e va risolto. Quali sono le opere promesse che poi non sono state effettuate? Ci sono diversi interventi come diceva David da qui alla rotonda di Subbiano anche nella zona del palazzo, diversi interventi che in questi anni si sono comunque verificati più volte questi eventi alluvionali e sono stati promessi più volte da ogni amministrazione che andava in carica che poi in realtà non è stato fatto niente. Ma esiste una mappatura ad esempio anche delle fogne? Perché come ben sapete oggi gli strumenti per poterle fare ci sono? Questo era un impegno che si era preso il sindaco alla riunione precedente di verificare e fare una mappatura sul territorio, però io personalmente l'ho anche fatta con dei cittadini visivamente nel momento dell'evento e ci siamo già lì accorti dove ci sono queste criticità. Quindi io credo che possa essere domani sera una riunione molto costruttiva e molto importante per trovare una soluzione per arrivare a delle conclusioni serie senza promesse, bisogna cominciare a fare. Io credo, anche perché Castelnuovo è una zona che ha una zona commerciale, una zona artigianale grande, quindi ci sono delle risorse che arrivano dalle opere di urbanizzazione, dall'Imo, da tutte le storie, quindi io credo che il Comune debba trovare anche le risorse per investirci.